C'è un ringraziamento, una dedica particolare che vuoi fare. Sono tante le persone, ma uno, due, tre, magari un gradino sopra. Beh, sicuramente la mia famiglia, mia mamma, mio padre, che probabilmente mi stanno guardando adesso. Sono sempre stati... Hanno sempre chieduti in me. Nessuno ha mai chieduto in me in questi anni e alla fine ho vinto. Sentivi però anche tutti quelli che erano dalla tua parte, al di là della tua famiglia? Sì, sicuramente, sì. Tutti gli amici che mi hanno seguito mi hanno scritto mille messaggi. San Giovanni che ha aperto la pisoffila per guardarmi fino adesso. Ti lasciamo le tue emozioni.